Don! In questa stanza, in questa stanza! E se spawna in quel posto diverso non cambia Non cambiano le cose che ci sono dentro Visto che è spawna alto L'abbiamo fatto 48 volte Sei ripartito Kasim? Sì Ok, interrompi Che cazzo non ti tiro Bentornati alla round di Kasim che si ta fome in gatto Ma se riguardi il gatto Guarda, no, c'è il coso, c'è uno di uno di strip Sì, quello Se in gatto faccio comunque fa che lui le fusa Dopo che si ta fome in gatto Che cazzo? Ok Ha fatto un numero amico di musica Sì, perchè era il lorologio Andre, non sono smonato random? Ora non posso morire Come si chiama questo bassino? Eh... Vado a finire, non lo ricordo Porca puttana Che figata Quante sono fighe Questa è la che c'è La che c'è la sannosa Tossico E' la che c'è la sannosa Tossico Tossico Che ti fai la mola Che non sei non cazzo che ti fai Non lo smagliate Non so cosa serve Non fassi colpire Le verdadze non sono non cazzo, cazzo, cazzo Le mosche così adora Le servono, non so come proteggerti Ah, non ti proteggono Ah, non ti proteggono Eh, no Perché non andè Così non perdi cuore Così non perdi cuore Dico, yeah Minchia, sono venuto un messo Ma se ti avvicini Lo andiamo da soli la mosca Non c'è proprio bisogno di far niente Eh, qual'è se sono batuto? Eh, io credo che Un'aperta d'abba Questa non c'è proprio storia Questa non sembra Non abbiamo fatto neanche come si chiama Questa è... Questa è... Questa è... Questa è... Questa è morto E' entrati nella stanza morto Ci ha guardato, ci ha sorriso Questa è morto Finchia Ti ditevo che facendo questo? Cazzo Ma che pallone Scusate Sto notando quello di femmine No Cento per cento Che cazzo si sente qua? Sono un po' Che bene Sono troppe mosche Non c'entra niente alle mosche Andre Lì a... Hanno fatto la giornata Tipo, far crescere Non sarà più pesante rispetto a... No, ma usavo un cazzo di situazione Di informazione del cazzo No, non è vero E' in Cia adesso E' in Cia Ma la manifestazione... Che si chiama? E' una versione aggiornata Che cosa è quello di flash Migliorata Non è che sia tutta questa gran cosa Sto proprio tutti su schermo Siamo tornati No, tornati Non ti schifo Incazza caga tanta bocca In quanto tempo morirà? Non lo so Non è ex Fa uccidere la cina Perchè di una foglia di sempre il culo C'è nel culo C'è Ehi, tutti qui adesso C'è Morto! Subito! Morto subito Ah, il tappo è stato... Eeeh 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 C'è anche il cuoricino davanti Dimmi se non è beautiful La mosca ha saltato quel tizio da sola E' quella che esplode vero? Si Non mi vedo Mi vedo Si vorrei le ghost C'è entrati nella stanza e erano già disgregato Veramente Oh, sono fino all'orologio Eeeh 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 Non l'ha avuto niente Eeeh 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 C'era proprio un bisogno di terrore Si sì E' quella che troviamo un oggetto nelle Nelle case Eeeh Che non c'è un cazzo a me perchè davan'è finta Forse E' finta Andre E' impossibile a perdere proprio Forse E' impossibile E' impossibile E' possibile Mentre dovrebbe andare in quel don E' impossibile a perdere C'è anche se stai fermo il boss lo ucciscono le mosche da soli Non finiscono le mosche da risparare Non si sta uccisando le mosche da risparare tante che a parte che c'è una mosca lì che va in giro ed è abbastanza anche figa cioè fa male più robo baby perchè? perchè si ah è chiuso qui comunque la strezza risa anche la niente anche non mi vedo c'è troppo traffico perchè sta andascati molto che cazzo? c'è un po' il momino che mi vuole essere sua vita ooo minca ci denuncia no bravo bravo super com uuuu vabbè steve sale vabbè ce ne facciamo un sacco vabbè 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 se voglio che la vita di tiri dottor risposta da dare sottotitoli di volo posto il cazzo bello sottose 50 un altro da 100% quindi non credo eh tu non credi? no perchè tu sei una persona che non crede ah no qui per o no ok ma veramente così sgravo dai dai non siamo sgravi come dovremmo dire potremmo essere più sgravi ancora da me non ci credo cominciò a capire perchè dicono che è più facile questo del primo no no beh dimandimi che non sono impietanti no Andrew ti fanno paura sulla te oh no si fa ammazzare guarda sono immortale e comunque fatti coprire sono immortale che figata ma puoi anche sparare se sei immortale puoi sparare si oddio queste sono le mi faccio scoppiare calci in culo le lamprede sono ci andiamo subito è una capreta però quante volte Andre è una staple quanto sarà forte tizio vado vado c'è Zeus vado sono cazzo no sono mezzo cuore mi sapecino ah come è già morto sacro no sto con l'amore aia mi schiaccia ma guarda guarda che cosa deve succedere una cosa brutta si ma è l'uniform grazie si in teoria anche in pratica no 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 ecco questa faccia è molto intelligente è per la prima volta satana e vediamo anche la fine perchè non l'ho mai vista io perchè sennò ok ah e questo finirà come sconfice è stata è vero ehm ta 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 prossima tappa mega satana non direi un cazzo non mai l'ha detto non ci credo non lo vedo non ci credo che si chi dice cazzate non l'ha detto ok grazie a tutti per averci seguito la prossima l'alongio che era gonario col nuovo personaggio ah zazzello esatto e cosa direi ahah zazzello è un attimino sgravo ma se lo uso io è sgravo a prescindere effettivamente ok grazie a tutti e vedete mi piace come vedete e piccoli grassi ci credo comunque ho fatto tipo 5 giornamenti non so da cosa si è liberato il taxi memoriam anche giuda abbiamo come giuda ma si è venuta adossata e lascia sbloccare giù non l'ho sblocato non l'ho sblocato ma si può fare un'altra si tanto che se non mettiamo